Una preghiera per il sinodo sulla famiglia che si apre, una preghiera per chi vive a tu per tu con la propria solitudine, per quelle case nel quali è venuto meno il vino della gioia e quindi il sapore della vita. Così hanno pregato insieme in piazza San Pietro Papa Francesco, i padri sinodali e più di 40.000 persone venute da tutta Italia per la veglia Accendi una luce in famiglia promossa dalla conferenza episcopale italiana. Dopo le testimonianze di tre coppie, due fidanzati, due sposi con quattro figli e una piccola in affido e due sposi ritrovati dopo sei anni di separazione, il Papa ha ricordato che anche nella cultura individualista che rende effimeri i legami, in ogni nato di donna è vivo il bisogno di una famiglia. Qualcuno con cui condividere il racconto della vita, perché la comunione di vita degli sposi, il loro accompagnamento educativo e la trasmissione della fede sono una scuola senza pari di umanità e un contributo indispensabile ad una società giusta e solidale. Per questo il cammino di discernimento spirituale e pastorale del sinodo che si apre è di grande importanza, perché l'ascolto e il confronto sulla famiglia amata con lo sguardo di Cristo dei 253 partecipanti diventeranno un'occasione provvidenziale con cui rinnovare la Chiesa e la società. Per ricercare ciò che oggi il Signore chiede alla sua Chiesa, dobbiamo prestare orecchio ai battiti di questo tempo e percepire l'odore degli uomini d'oggi, fino a restare impregnate delle loro gioie e speranze, delle loro tristezze e angosce. A quel punto sapremo proporre con credibilità la buona notizia sulla famiglia. Facciamoci carico con responsabilità pastorale degli interrogativi che questo cambiamento d'epoca porta con sé, è stato l'invito di Papa Francesco, in un confronto sincero e fraterno che il Signore saprà ricondurre a unità. Se assumeremo il modo di pensare, di vivere e di relazionarsi di Gesù Cristo, non faticheremo a tradurre il lavoro sinodale in indicazioni e percorsi per la pastorale della persona e della famiglia, perché ci sono tante ferite che sanguinano e tanta gente senza speranza che attende il vento della Pentecoste.